Unisci in una ciotola gli ingredienti secchi, quindi farina di riso, amido di mais, cacao amaro in polvere, mezza bustina di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, le mandorle tritate e un pizzichino di sale. Prendi due cachi maturi, spellati e frullati a crema, versali in una ciotola, versa un cucchiaino di estratto di vaniglia, lo zucchero integrale di canna, lo sciroppo d'acero e l'olio di semi. Mescola il tutto, poi unisci ingredienti umidi e secchi. Versa il composto della torta nello stampo imburrato e infarinato del diametro di 22 centimetri e ricopri con le gocce di cioccolato. In forno a 170 gradi per massimo 30 minuti. La torta deve rimanere morbida, umida e non deve assolutamente seccarsi. E' una torta vegana ikaki deliziosa, la consiglio a vegani e anche non vegani. Musica 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 Grazie a tutti.